Finisce 2-2 il derby tra Follonica e Grosseto, Sergio Siva una partita molto bella, equilibrata, combattuta, con squadre che hanno giocato e corso fino alla fine, nonostante gli impegni infrasettimanali di Coppa, alla fine è un risultato che pare giusto. Io penso di no, penso che la nostra vittoria sarebbe meritata per quello che abbiamo spinto il primo tempo, abbiamo creato tantissime occasioni, ma quando non si segna si può sempre subire e così è stato. Il secondo tempo è un po' più equilibrato, ma penso che si poteva e si doveva vincere questa partita qua, abbiamo commesso qualche errore in più, ho pagato un po' di stanchezza come hai detto te nella Coppa, avevo due o tre ragazze che non stavano comunque bene e la stanchezza si è fatta sentire perché gli ultimi dieci minuti non sono stati nel nostro livello. Il risultato è quello, accettiamo, adesso c'è una pausa, cercheremo di tornare con le pille cariche per quello che viene perché c'è ancora tanto da fare. Grazie